Il Paesaggio Nasconde un messaggio di storia Testimonia un passato che è leggibile attraverso le pietre, i muri, anche la vegetazione Tante volte mi perdo in una zona archeologica e a meditare così nel nulla, ammirando i resti E rifletto sul tempo che passa e sul significato che ha avuto, quello che è avvenuto prima di noi Grazie, grazie Potremmo spiegare questo pietre? Perché mi piace molto Questo pietre, questo pietre, mi piace perché il punto focal è qui, è bellissimo Ha tutto un significato, questo è un lago costiero che è stato generato da un vulcano spento Quindi, al posto del letto del lago prosciugato, l'uomo ha creato una salina, ha fatto entrare l'acqua dal mare L'ha fatto prosciugare e ha ricavato il sale Tutto questo complesso serviva come attrezzature per ricavare, per custodire le attrezzature adatte alla funzionalità della salina Questa è stata la capanna che per il ricopero degli attrezzi, degli arnesi All'alba quando spunta il sole, l'anella brucia tutto d'or Le prosperose campagnole, discendono le valli in fiore Oh campagnola bella, tu sei la reginella Negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viale, delle valli tutte in fiore Se canti la tua voce, è armonia di pace Che si dicono e dice, se puoi vivere felice, devi vivere quassù Che si dicono e dice, devi vivere come attrezzature Grazie a tutti.